Gustate un dolce fragrante all'esterno e morbidissimo all'interno, vale a dire la crozzata con le mele. Vediamo come si prepara. Innanzitutto mettiamo in una palentaria, in una ciotola, il burro morbido e lo montiamo con lo zucchero a velo. Quindi aggiungiamo la scorza di limone o l'essenza di vaniglia a vostro piacimento, le uova e la farina. E poi lavoriamo su una spianatoia o un piano di lavoro. Quindi lasciamo riposare in frigo per circa mezz'ora. Intanto prepariamo la parte interna, mischiando il burro morbido con lo zucchero di canno semolato. Poi aggiungiamo l'uovo, la scorza di limone e la farina. Ed infine anche le melacobetti. Quindi stendiamo la frolla, aggiungiamo la confettura e il nostro interno. Poi cuocere a 180 gradi per circa 30-40 minuti e gustare.